Iniziativa elettorale di potere al popolo a Napoli dove arriva anche Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale francese, nel programma Lavoro stabile, innalzamento delle pensioni minime e messa in sicurezza del territorio. Noi pensiamo che si sia fatto profitto su disastri ambientali, su terremoti in questi anni, mentre invece è prioritario prevenire. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS